Ecco come va mangiato il mango acerbo qui in Thailandia. Si prepara prima la salsetta. Io già penso di sapere come si prepari. Quindi peperoncino, voilà! Un po' di aromi di maiale, et voilà! E poi immagino un po' di salsa di pesce? No, oggi una nuova versione, signori. Quindi zucchero di canna, basta? Finito? E un po' di sale, perché no? C'è anche un po' di cemento di là, lo vuoi? Ecco un po' di spoon per la ragazza. Tieni lo spoon. Si miscita il tutto. Dopodiché faccio vedere come si taglia il mango a questo punto. Eh? Ce lo fa vedere come si taglia? Sì, vada. Vai, vai Lory. Vuoi anche un coltello? Aspetta, ecco! Ecco! Allora! 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 Che fatica la vita, eh! Eh sì! E poi, ovviamente lo prendi a coltellate. Sento un bel profumo. Io, io, sono io. Tu? Oh! Oh! E faccio vedere a questo punto come si mangia. Eh? Poi? Poi? Ok! Ancora? Sì! Sì! Questo comunque, dicevo, il mango acerbo non è maturo e si mangia così in Tailandia. Devo dire che è veramente molto buono. Sì! Fai! Quindi si prende il mango, si ammoglia nella salsa, com'è? Da 1 a 10? Sì! Senca un'è. Senca un'è. Senca un'è. Senca un'è. Senca un'è. Seems bene.